In questa meditazione rapida ci connetteremo alla frequenza dell'Arcangelo Michele per ricevere purificazione e protezione energetica. Adesso trova una posizione comoda, se possibile con la schiena diritta e chiudi gli occhi. Fai una lunga profonda inspirazione, trattieni ed espira rilassandoti in questo momento. Ancora un profondo respiro, trattieni ed espira connettendoti allo spazio del cuore. Un ultimo profondo respiro, trattieni ed espira nella presenza di Michael. L'Arcangelo Michele è con te. Osserva dove si trova, dove lo percepisci rispetto al tuo corpo. Se percepisci dei colori o un'energia particolare emanata dalla sua aura. Qualsiasi cosa tu percepisca è perfetto per te. Accogli l'energia di Michael come un flusso potente che ti attraversa dalla testa fino ai piedi. Inspirando per assorbire dalla testa e espirando per far fluire lungo la colonna vertebrale, lungo tutto il corpo, fino alla terra. E per un minuto continua a respirare in questo modo facendo aumentare questa potente corrente energetica ad ogni respiro. Grazie a tutti. La luce di Michael scorre potente lungo tutti i tuoi canali energetici, purificando ogni scoria e portando con sé verso la terra ogni cosa superflua. Permettiti di arrenderti completamente a questo flusso di guarigione. Senti con ogni cellula la presenza potente e amorevole di Michael, mentre lasci andare tutto ciò che vuole essere purificato. Adesso focalizzati sulla spada di Michael. Più che qualcosa di tagliente, immaginala come una lama di luce che gentilmente scioglie gli attaccamenti e le forme pensiero perché possano tornare alla terra. Senti e vedi Michael passare delicatamente questa lama luminosa su tutto il tuo corpo, dalla testa fino ai piedi, scansionando la tua aura e sciogliendo ciò che vuole essere sciogliendo ciò che vuole essere sciogliendo. Inspira e senti la lama di Michael sollevarsi sopra la tua testa. Espira e sentila passare sulla parte davanti del tuo corpo. E ancora una volta inspira ed espira sentendola passare sulla parte sinistra del corpo. E ancora una volta inspira ed espira sentendola passare sulla parte dietro. Adesso puoi sentire ancora questa potente lama di luce accarezzare il tuo corpo dentro e fuori dove lo senti necessario, sciogliendo punti specifici e purificando quello che senti. Lasciati guarire con semplicità dalla spada di Michael ancora per un minuto. Grazie a tutti. Adesso permetti che Michael ponga le mani sulla tua testa a inondare il tuo corpo di pura pace e amorevole presenza. Lasciati inondare della sua forza gentile che riempie ogni tua cellula ed esce dai pori della tua pelle come un fiume di luce in piena. Questa pace che oltrepassa i confini del tuo corpo forma un uovo di luce intorno a te, un nido luminoso che ti protegge dalle frequenze meno allineate con quelle della tua anima. Fai ancora un respiro profondo per percepire bene questo uovo luminoso e la presenza di Michael che lo nutre con la sua potente energia protettiva. Unendo le mani sul tuo cuore puoi onorare e ringraziare la sua presenza in te. Accogliendo la responsabilità di portare questa luce nel mondo seminandola come meglio sai fare. E adesso quando lo senti torna la tua presenza fisica e apri gli occhi. che l'amore, la pace e la bellezza ti accompagnino ovunque ti porti il tuo cammino. Grazie. Sat Nam. Grazie. 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 Grazie.